Buongiorno a tutti, oggi è martedì 8 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 17, versetti dal 7 al 10. In quel tempo Gesù disse, chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il greggio, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Oggi il Vangelo ci ricorda la bellissima realtà del servizio, ci fa davvero approfondire che cosa intenda Gesù per servizio. Il maestro in questo insegnamento breve ma intenso spiega ai suoi uditori, a ciascuno di noi, che cosa significa essere serbo. Il testo conclude con una sintesi magnifica che ci porta subito a capire il senso degli interrogativi con i quali inizia il discorso. Gesù parte dalla realtà umana della servitù che nel mondo antico, non dobbiamo dimenticarlo, era una condizione sociale ma anche esistenziale di alcuni e non di altri. Per questo il maestro esordisce con la domanda chi di voi sia un servo ad arare, appascolare il greggio e gli dirà quando rientra dal campo vieni subito e mettiti a tavola? Era comune il fatto di avere un servo per poter svolgere i lavori pesanti. Nel mondo greco troviamo infatti diversi modi per indicare il servo. I modi erano diversi in base alle mansioni che il servo svolgeva. Abbiamo il diaconos che era il servo che amministrava, il terapon che era l'assistente, loichedes che era il servo domestico e il missios che era il servo ad ore. Però se osserviamo questo testo in lingua originale greca, nel greco originale, troviamo che nessuna di queste parole è indicata da Luca per dire il servo di cui ci parla Gesù. La parola utilizzata qui è doulos che letteralmente dal greco significa schiavo, un uomo, cioè che ha una relazione con un altro tale che solo la morte può rompere, dato che la parola doulos viene da un verbo greco che significa legare. Il servizio quindi che intende il Vangelo oggi è quello di un uomo legato a un altro. Questa condizione era evidente perché di solito gli schiavi venivano segnati con un marchio ben visibile, simile a uno stigma che li identificava con il loro padrone. In poche parole l'identità dello schiavo dipendeva dalla persona alla quale apparteneva. Da questa dipendenza di appartenenza dipendeva tutta l'esistenza dello schiavo. I suoi vestiti, il cibo che mangiava, le cure mediche, l'alloggio, tutto era provveduto dal suo padrone. Ecco allora che possiamo comprendere meglio perché Gesù chiede ai suoi ascoltatori e ai suoi seguaci di riconoscersi come schiavi inutili, servi tradotto servi ma letteralmente schiavi inutili. Cioè come persone che non hanno bisogno di gratificazioni per svolgere il proprio dovere. Uno schiavo non aveva nessuna preoccupazione riguardo ai propri bisogni materiali, non aveva bisogno di ricevere degli incentivi per poter guadagnare di più ma di nessun tipo, non aveva bisogno neppure di essere ringraziato per il suo lavoro perché tutto gli veniva dato dal suo padrone. Lo schiavo non si preoccupava di accumulare degli onori perché di questo si occupavano i ricchi che avevano delle carriere da fare. Ecco allora oggi il Vangelo ci riempie davvero il cuore di grande gioia e ci dà una buona notizia perché tutti siamo schiavi di qualcosa nella vita, cioè tutti ci leghiamo a qualcosa. Allora è importante se noi seguiamo Gesù di imparare a legare la nostra vita solo a Dio, cioè a mettere noi stessi sotto il controllo di Dio che ci ha fatto, ci conosce, ci ama e quindi ci vuole liberi. Ci vuole liberi, cioè capaci di dare del proprio meglio, del nostro meglio nel lavoro che facciamo, nelle relazioni che abbiamo, non tanto perché potremmo ricevere un qualche guadagno da Lui, ma perché avremmo fatto davvero il meglio di quello che possiamo, perché è Dio che ci vuole così, quindi avremmo fatto la sua volontà, la sua volontà, la nostra felicità e svolgendo, facendo la volontà di Dio, avendo questa coscienza di aver fatto la volontà di Dio, sapremo che non ci mancherà mai niente. Allora oggi concludiamo con una preghiera bellissima di Sant'Ignazzo di Loyola che veramente ci fa trasformare in preghiera il senso di questo Vangelo che ascoltiamo nella liturgia. Signore insegnami ad essere generoso, a servirti come lo meriti, a dare senza contare, a combattere senza il pensiero delle ferite, a lavorare senza cercare riposo, a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa che la coscienza di aver fatto la Tua volontà. Amen. Buona giornata.